Michele? Me l'hanno detto. Che ti hanno detto? Se io porterò gli spinaci. Ma che stai a dire? Ma ti ricordi quello che mi hai detto ieri? Ti devo svegliare, oggi è il primo giorno di scuola. Devi essere puntuale. Sei sveglio? Facciamo presto. Me ne vado? Tutto a posto allora? Tutto a posto.